Siamo con Mattia Cagnetta al termine della vittoria del Sant'Oro al Cazmaia contro il Granarolo, una vittoria importantissima che mi permette di rimanere in testa. Siamo contenti, sapevamo che era una partita difficile dopo un mese e mezzo farmi, nonostante la classifica sapevamo di non dover sottovalutare il Granarolo. Abbiamo vinto, siamo contenti e proseguiamo la nostra marcia. Ecco Mattia, diciamo che il tuo 2022 è iniziato molto bene, una doppietta, una vittoria e rimonta importante per il tuo Caz. Sono contento, sono contento e spero di farne molti altri e se non segno spero comunque di vincere il campionato per me, la squadra, i miei compagni e tutti che siamo un gruppo stupendo. Ecco, qual è la squadra che temi di più in questa lotta per salire? Allora, noi dobbiamo, la prossima partita affrontiamo Conteca Rega, quindi vedremo anche loro. Comunque l'Atletico Internazionale secondo me sono un'ottima squadra e anche il Begato noi ci ha messo in difficoltà, quindi se devo fare un tifo per arrivare secondo ovviamente dopo di noi è per il Begato. Ok, grazie mille e moca a lungo. Grazie a voi, ciao Paolo, ciao ciao ciao.